Beh, io mi sento piccola piccola qua, tra tutti i professori che mi hanno preceduto e anche il professore che mi seguirà. Diciamo che io vengo dalla prima linea, dalla base, dal lavoro di tutti i giorni. E in questa presentazione ho preferito scrivere qualcosa, perché per me è un argomento molto di tensione emotiva, perché ho dedicato tutta la mia vita a questo lavoro. Da circa 30 anni aiuto le donne a partorire bambini che diventeranno uomini e donne della futura società, e qualcuno è anche in sala. So, sto con le donne e i loro compagni durante la gravidanza, il parto, l'allattamento, parlo con loro, ascolto. La mia esperienza è fatta dei vissuti intimi, della storia di ognuna di loro, che si incontra con la mia stessa storia, con la mia vita. I miei maestri dell'arte dell'ostetricia sono stati i medici che mi hanno preceduta, che hanno lavorato in trincea nelle case chiamate dall'ostetrica nei casi difficili. Da loro ho imparato la tecnica chirurgica, le terapie mediche e a fare una giusta e pronta diagnosi. Ma è dalle altre donne, dalle ostetriche, che ho imparato la pazienza, la strategia dell'attesa, l'arte vera di far nascere. Da tutte le donne, ma proprio da tutte, ho imparato come era giusto che mi comportassi con ognuna di loro, che non ci sono regole universali e che ogni donna partorisce a modo suo. A me è toccata l'attenzione alla loro unicità e straordinaria individualità. Mio è stato il compito di stare con loro, ascoltarle, assecondarle, guidarle, suggerire, aspettare, intervenire, ma nel rispetto della loro richiesta. La mia esperienza l'ho fatta a Napoli, negli ospedali di prima linea, nei consultori in privato, nelle case di cura, nelle case private per i parti in casa. Negli ultimi anni ho capito che questo evento così privato, così naturale, che ci coinvolge tutti in prima persona, perché tutti, lasciamo, sta perdendo le sue caratteristiche di umanità. Non a caso, le vicende di costume che tutti conosciamo e hanno visto l'opinione pubblica intera e i mass media coinvolgersi appassionatamente, e noi stessi, che ne siamo stati interessati emozionalmente, ci siamo chiesti il perché, senza saperci dare una risposta. Ogni tanto ci capita di sentire che mettono un bambino nella lavatrice, o che per stendere i panni il bambino è caduto. Io credo che molti si stiano rendendo conto che la nascita è sempre più un momento di angoscia e di paura, sempre meno di gioia, che il bambino viene chiamato prodotto del concepimento, e come prodotto viene trattato. La ricerca della sicurezza, la necessità del controllo dell'uomo sulla natura, il bisogno sociale di bambini sani, sempre più perfetti, sta determinando uno spostamento verso l'angoscia e la paura, che pure fanno parte del corredo ancestrale dei sentimenti presenti in ogni nuova esperienza, ma che hanno preso il sopravvento sulla naturalezza, la gioiosità, l'intimità della nascita. A mano a mano che il parto è stato medicalizzato, che le nuove tecnologie ci hanno garantito maggiore sicurezza della salute di mamma e del bambino, e aggiungo io meno male, la nascita è diventata sempre più esterna alla consuetudine semplice e naturale degli eventi che si svolgono nella intimità della famiglia, della coppia, quella intimità che è un diritto umano. Così, paradossalmente, a quel prodotto del concepimento che abbiamo voluto perfetto nella struttura fisica, viene negato il rispetto. Un'accoglienza emotiva ed affettiva, nell'incontro con i genitori e con le primissime fasi della vita, durante le quali l'espressività affettiva ed emotiva porranno le basi per un sano sviluppo psicofisico. La paura del dolore, la paura che non tutto vada bene, la paura di non farcela, il dolore stesso, vengono vissuti nella solitudine che la società ci propone e che noi stessi abbiamo creato, attraverso la burocratizzazione delle procedure mediche, non accompagnate dall'adeguato conforto e sostegno che una volta si trovava all'interno della famiglia e della casa. Questa società, che è stata capace di sviluppare tecnologie e strategie contro la malattia, l'handicap e, perché no, la morte, con l'indifferenza che accompagna la nascita e con le conseguenze che ciò determina nella vita di ogni persona e quindi nella società stessa, si sta fortemente penalizzando. Troppo. È possibile dunque puntualizzare ciò che sta avvenendo, stare nella coscienza di ciò che è per ognuno di noi la nascita, di ciò che vorremmo fossero i primi momenti della vita, della vita dei nostri figli e dei figli dei nostri figli. È possibile che la società non si accorga della violenza che sta perpetuando nella nascita e che dove c'è violenza non c'è pace? La donna passa dalla fase dell'immaginario, dei pensieri astratti, fase che a volte precede di anni la realizzazione della maternità, al momento reale del concepimento, in cui le fasi biologiche di sviluppo del nuovo individuo evocano le immagini fantastiche del futuro bambino. Si parte dal progetto immaginario, fantasticato desiderio di un figlio, per giungere alla concreta percezione di un altro da noi durante il percorso della gravidanza, laddove una forma concettuale, un'idea, si trasforma in una relazione concreta e reale. L'amore come punto di partenza e di arrivo, di un arrivo che altro punto di partenza. Grazie.